Stiamo ancora in ambito birre trappiste perché mi sono accorto di non aver mai recensito su questo canale le birre dell'unico birrificio trappista che ha fisicamente sede in Italia, ossia l'abbazia Tre Fontane. Vediamo come al solito la scheda con le informazioni di questa birra. Il birrificio in questione è appunto l'abbazia Tre Fontane e ci troviamo a Roma in Italia. Il nome di questa birra è Scala Coeli, si tratta di una Belgian Blond Ale, categoria 25A per un riferimento alle linee guida del BJCP, 6,7 il volume alcolico, bottiglie da 33cl acquistata in birrshop a 4,65€, bicchiere suggerito direi pallone o tulipano e no, non si tratta di un primo assaggio. Come anticipato Tre Fontane è l'unica abbazia italiana che è appunto trappista, che produce birra. Ci sono altre abbazie trappiste e che producono altri prodotti, sempre riconosciuti dall'Authentic Trappist Product, quindi dall'associazione che conferisce la possibilità di applicare il famoso logo esagonale, ma di produttori trappisti di birra. In Italia appunto abbiamo solo Tre Fontane. È anche relativamente poco tempo che produce birra, infatti dal 2015 l'abbazia ha iniziato a produrre birra e ha ottenuto il permesso appunto di utilizzare il logo esagonale. Il nome di questa birra è Scala Coeli, che è il nome di una delle due chiese presenti all'interno dell'abbazia, mentre il nome Tre Fontane deriva dal fatto che la leggenda che narra appunto la nascita di questo birrificio vuole che qui sia stato decapitato San Paolo e in perfetto stile splatter, come tanto piace alla chiesa cattolica, la testa, una volta decapitato il santo, è rimbalzata tre volte e nei tre punti in cui appunto è rimbalzata la testa, sia poi sgorgata dell'acqua. Ovviamente non c'è alcuna evidenza storica né ovviamente della leggenda delle tre sorgive né ovviamente della stessa esistenza della figura di San Paolo, però appunto il nome si rifà a questa leggenda per certi versi quasi tarantiniana. Una piccola precisazione, il nome Tre Fontane può far giustamente pensare alla Göserie Belgadrie Fonteynen, che appunto tradotto in fiammingo significa esattamente Tre Fontane, è una Göserie per essere precisi, che si trova a Bersil nel Pajottenland, dove appunto blenda l'omonima Gös. E' da precisare stata una Göserie, quindi un assemblatore di Lambic fino al 1998, dal 1998 invece in poi hanno anche un reparto di produzione e quindi parte del mosto è prodotto ovviamente per fermentazione spontanea da Dre Fontane appunto, parte del mosto invece viene acquistato da altri produttori, in particolare acquista da Lindemans, Boone e Girardin, se non erro, e poi dopo appunto blenda i mosti, quindi acquista questi mosti, li lascia maturare in botte e poi dopo fa appunto il processo di Göserie, cioè appunto di selezionare in quali percentuali, quali mosti e di qualità appunto questi mosti vanno assemblati per produrre un prodotto vinale che è appunto la Göserie. Ma tornando al nome appunto di questa abbassia e tre fontane, quindi alla leggenda che vuole la nascita appunto di queste tre sorgenti d'acqua, in realtà la leggenda potrebbe essere nata per giustificare il fatto che la zona era, questa zona collinare era già nota fin dai tempi dei romani per le numerose pozze d'acqua da cui arrivavano anche delle pandemie, delle epidemie di malaria. Nel 1800 infatti il monastero è stato abbandonato proprio per la difficoltà di convivenza in questa zona appunto con delle acque malsane, ma a fine dello stesso secolo, a fine 1800 infatti, viene ripopolato in questo caso appunto dai trappisti, prima era un altro ordine sempre di monaci, quindi è ripopolato dai trappisti che decidono di bonificare la zona costruendo dei canali per l'acqua e piantando un gran numero di eucalipti, una pianta che dall'altro appunto richiede tantissima acqua. Esiste infatti anche una loro birra all'eucalipto, non è questa qui in questione, questa è aromatizzata, lo vedremo dopo, con dell'arancia. La birra all'eucalipto l'ho assaggiata qualche volta, forse devo mettere, mi sembra, leggermente, o comunque una delle volte in cui l'ho assaggiata un paio di anni fa, mi era sembrata un po' sbilanciata appunto sull'eucalipto, però a parere personale andrebbe sicuramente riassaggiata. L'eucalipto in effetti ricorre in molte raffigurazioni, a volte anche luoghi di monasteri, spesso trappisti, che si sono dedicati appunto alla bonifica di alcune zone appunto paludose o con acque poco o poco sane, perché appunto l'eucalipto è una pianta molto vorace d'acqua. Inoltre i fiori dell'eucalipto sembrerebbero essere particolarmente attrattivi per le api melifere che appunto producono l'omonimo miele e l'eucalipto, che spesso è uno dei prodotti commercializzati sempre dalle abbazie. Non è raro infatti trovare l'introduzione di questa pianta all'octona, perché ricordiamo l'eucalipto viene dall'oceania, però non è rara l'introduzione, diciamo, dalla seconda metà del 1700 in poi, anche in Europa, proprio nelle zone che necessitano una bonifica. Ma venendo alla birra in questione, sappiamo che si tratta di una Belgian Ale e sappiamo, come riportato in etichetta, che viene un'aggiunta, in questo caso un'aggiunta di scorze d'arancia. E per essere precisi, scorze di arancia amara viene riportato in etichetta, caratteristica comune, per esempio, alle blanche o vit, che dir si voglia, appunto, della tradizione sempre belga. Due parole al volo sull'estetica anche della bottiglia, appunto, il tappo, il colore che domina tutta la doppia etichetta di questa bottiglia, è il colore giallo, la triple ha un colore più chiaro, se non sbaglio, e la double, che è quella fatta in collaborazione con altre due birrifici, Spencer e Westmal, andando a memoria, ha invece il colore più più scuro dell'etichetta. Il logo è lo stesso presente su tutti i tappi, cambia appunto il colore, ed è appunto la scritta tra fontane, e questo logo che riporta quello che sembrerebbe essere un muro, il pastorale, il copricapo tipico, appunto, degli alti ranghi della chiesa. Nella parte inferiore si vede quello che sembrerebbe essere una spada o un gladio che incrocia un vegetale. Potrebbe essere un eucalipto, in realtà è molto stilizzato, quindi può risultare complesso e individuare esattamente di che vegetale si tratta, però appunto sappiamo che la zona è ricca di questa pianta. Mentre nella parte inferiore, ai bordi di Authentic Trap Esproudut, è bellino che ci sono disegnati due luppoli. E passiamo all'apertura. Allora, ho un bicchiere un po' più piccolo, perché facendo davvero molto caldo si scalda velocemente la birra nel bicchiere, e allora preferisco lasciarla nel vetro, che è piuttosto spesso, e magari riesco a conservarla un pochino meglio. E partiamo dall'analisi visiva. Allora, la schiuma è sicuramente abbondante, regolare, medio fine, anzi direi, ed è di color bianco, sì. Il colore della birra, questo qui è un oro carico, anzi direi che siamo quasi sul lambrato, ed è leggermente, leggermente velata. La birra è stata in verticale da diversi giorni ormai in frigorifero, quindi non è sicuramente un residuo di lievito che ho alzato, è proprio così, naturalmente, leggermente velata. E passiamo all'analisi olfattiva. Prima ancora dell'arancia, che ci aspettiamo, ovviamente, caratterizzante come ingrediente, quello che ci investe, ed è una cosa che apprezzo molto di questa birra, è questo aroma di miele fortissimo, direi proprio miele d'acaccia per essere precisi. Indico il miele d'acaccia perché è quello forse che ho consumato più in elevate quantità, e quindi mi si accende immediatamente quel descrittore nella mente. A seguire c'è in generale un descrittore floreale buonissimo, davvero un naso molto interessante questa birra, e sì, forse al terzo posto sul podio metterai una parte fruttata che potrei ricondurre all'agrume, ma sicuramente c'è questa parte di miele e di floreale, credo dato dal lupolo, che secondo me prevale anche sulla parte di frutta, diciamo, data dal ceppo belga di lievito. Sì, mi ricordo davvero il mondo del miele, c'è una punta anche che mi porta alla propoli, per esempio. Davvero affascinante il naso di questa birra. E passiamo al palato. Sicuramente la semplicità e la velocità di bevuta, come può indicare il bicchiere, è una delle caratteristiche più affascinanti e più interessanti di questa birra. Ma se vogliamo fare una descrizione gustativa completa, sicuramente la piattura è morbida, non eccessivamente morbida, anzi, vira sull'amaro abbastanza velocemente, tutta la conduzione poi in bocca resta su note d'amaro che pian piano si amplificano e chiudono appunto in maniera abbastanza decisa, con un retrogusto che ci fa ritrovare tutto questo floreale, tutto questo fruttato che abbiamo già sentito al naso e ancora una nota amara sul fondo che continua a lavorare un pochino in bocca. Sicuramente una birra, sì, dominata dal gusto amaro, non eccessivo, non arriviamo a livelli delle ipa ovviamente, o di certe birre particolarmente lupolate in amaro appunto, ma appunto questa conduzione amara rende la birra davvero veloce, scorrevole da bere. Il corpo è medio, medio-basso forse, anche la frezzantezza è a livelli medi, ma appunto nonostante non sia così leggero il corpo, resta comunque una birra velocissima da bere, molto semplice da bere. Il fondo di lievito dovuto alla rifermentazione in bottiglia, quindi il fondo con il lievito esausto, una volta che incliniamo la bottiglia viene sollevato e quindi per forza finisce nel bicchiere, per questo motivo consiglio di, se non vogliamo alzare il fondo, fare tutti i bicchieri che vogliamo versare in un solo colpo, perché una volta riposizionata in verticale la bottiglia si va a sollevare il fondo. Effettivamente scaldandosi, forse la parte di agrume e comunque di fruttato è un attimino più evidente rispetto a prima. La temperatura di servizio indicata sulla birra è tra 8 e 10 gradi, potrebbe essere che la birra al momento fosse effettivamente un filo più fredda, perché in frigorifero l'ho tenuta a 2 gradi. E appunto adesso che si è leggermente scaldata la birra, non è così, diciamo, lontano il profumo agrumato, resta comunque secondo me in secondo piano da questo mix miele e floreale. Visto che sul canale si è spesso parlato di birra e di birrifici trappisti, mi piaceva appunto nominare anche l'unico birrificio trappista italiano che è appunto l'Abbazia di Tre Fontane e quindi con la scala Coeli-Skoll. Grazie. 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 Grazie.